La scelta del pennello giusto inizia con un'attenta considerazione delle setole. I pennelli con setole naturali, spesso derivati da maiale o bue, sono perfetti per la pittura ad olio grazie alla loro capacità di trattenere grandi quantità di colore e resistere alle dure consistenze tipiche degli oli. Curiosamente, le setole di maiale possiedono una struttura cavo al loro interno, che permette una flessibilità ineguagliabile, ideale per creare tratti espressivi sulla tela. Ogni forma ha una funzione particolare nella pittura. I pennelli piatti sono ideali per stendere ampie aree di colore e creare bordi netti, mentre quelli, a lingua di gatto, uniscono la precisione dei pennelli piatti alla morbidezza dei pennelli tondi, perfetti per mescolare e sfumare tonalità. Un dato interessante è che i pennelli tondi erano i preferiti dei grandi maestri rinascimentali per la loro capacità di dettagli intricati e morbidi. Un aspetto spesso trascurato è la lunghezza e il materiale del manico del pennello. I manici lunghi offrono una prospettiva migliore del lavoro in corso, incoraggiando un lavoro più espressivo e libero, mentre i manici corti consentono un maggiore controllo per dettagli minuti. Alcuni pittori trovano che dipingere con pennelli dal manico di legno, piuttosto che di plastica, instilli un senso di connessione organica con il passato e una sensazione più naturale durante la creazione. Non esiste un pennello ideale universale. La scelta dipende dallo stile personale e dalle esigenze pratiche del pittore. Le prove e gli errori fanno parte del processo e molti artisti esperti raccomandano di avere a disposizione una gamma varia di pennelli per affrontare ogni sfida pittorica. In fin dei conti, il pennello giusto è quello che aiuta a trasformare la visione creativa in realtà tangibile.